Sicuramente la vaccinazione degli over 80, potendo essere fatta solamente con vaccino Pfizer, ha risentito dell'approvvigionamento del vaccino stesso. Il problema vero, al di là dei disguidi organizzativi e di scelte che è facile criticare ex post, riguarda la mancanza di vaccini. Lo ribadisce la vicepresidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Firenze, Elisabetta Alti, che racconta riguardo alla somministrazione del siero agli over 80, non ne ho mai fatti più di 12 a settimana e tutti i vaccini che sono stati consegnati ai medici di famiglia, come me, sono stati utilizzati. Al di là di alcune pecche organizzative, la farraginosità di una certa piattaforma, che deve assolutamente essere registrato il vaccino tre volte, quindi l'amministrazione, la burocrazia è abbastanza farraginosa, però in realtà quello che è mancato è stato proprio il vaccino. Le dosi di vaccino. Come medico, quello che dice Ema, l'ente regolatore europeo e italiano sui farmaci, faccio, dice la dottoressa. Tuttavia, in altri paesi, AstraZeneca, il vaccino no profit, dal prezzo molto inferiore rispetto ai prodotti delle multinazionali del farmaco, è stato inoculato agli anziani con grande successo. Nella Gran Bretagna sono stati utilizzati anche questo tipo di vaccino, questa tipologia di vaccino, anche per pazienti più anziani. E abbiamo visto il crollo della mortalità. Quindi occorre anche, magari in progress, rivedere quelle che sono state le scelte per arrivare a questa immunità di grecce, che solamente ci può garantire la riduzione di questa mortalità, che veramente adesso comincia a pesare dopo un anno. Grazie a tutti.